Ex Temporamnia è il più grande festival notturno italiano. Si svolgerà nella notte tra il 21 e il 22 agosto nelle strade di Teramo, nel centro storico di Teramo e per una notte Teramo si trasformerà, diventerà un palcoscenico a cielo aperto in cui gli artisti interpreteranno se stessi, diventeranno attori di uno spettacolo straordinario. Quest'anno abbiamo avuto già delle registrazioni da parte di artisti che vengono da Barcellona, che vengono da Ginevra, che vengono dalla Germania. Questo vuol dire che nel panorama dei festival artistici italiani Teramo sta diventando un punto di riferimento. Questo era l'obiettivo e lo stiamo raggiungendo. Siamo ancora lungo la strada, non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare a lavorare con l'entusiasmo che ci contraddistingue, con la forza e il supporto dell'amministrazione comunale senza la quale non si farebbe niente e andiamo avanti in questo modo. Teramo aspetta gli artisti. La novità di quest'anno di extemporamia è la sezione junior. I ragazzi under 16 sono invitati a partecipare sabato 21 agosto. L'iscrizione sarà possibile dalle ore 17 alle 18 e potranno creare liberamente fino alle ore 21. Ci sarà la proclamazione dei vincitori la sera stessa e verrà consegnato un attestato a tutti i partecipanti. I primi quattro classificati saranno premiati la mattina successiva, domenica 22 agosto, all'incirca verso le ore 12, con quattro targhe. Tutte le opere verranno poi inserite nel catalogo d'arte Ex-Tè 2021 e le prime quattro tele classificate verranno esposte nella mostra collettiva che sarà allestita successivamente. Grazie.